Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Oggi ho pensato di realizzare un video tutto dedicato alle colazioni, per tutta la settimana. Potete sia prepararle il giorno prima, che secondo me è super comodo, oppure anche la mattina, magari svegliandovi un pochettino più presto. Infatti sono tutte ricette facilissime e velocissime e adatte un po' a tutti. Ho deciso di realizzare, per prima cosa, i waffle, che sono tipici della colazione, che potete poi guarnire a piacere con sciroppo d'agave, burro di arachidi, marmellata, cioccolata, insomma tutto quello che avete in frigo. Poi, per chi ama una colazione salata, ho pensato di fare il famosissimo avocado toast, che a me piace tantissimo e anche lì è super veloce. Poi ho realizzato dei muffin mille gusti, ovvero con un unico impasto potete realizzare tanti gusti diversi, in base a come li decorate. Anche lì una specie di ruota a frigo in base a quello che trovate. Dei biscotti cioccolato e avena, che sono buonissimi, si preparano solo con un cucchiaio e sono senza uova e senza burro. E infine, non per bontà, dei yogurt toast, sono buonissimi, super veloci, poi li potete realizzare con il vostro yogurt preferito e sono senza uova. E anche questi li potete decorare con tutto quello che avete in frigo o più vi piace, come frutta fresca, gocce di cioccolato, burro di arachidi, insomma un po' di tutto. Quindi mi raccomando, lasciatemi scritto nei commenti qual è la vostra colazione preferita, magari mandatemi la ricetta proprio di quella che fate più spesso e lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto. Iniziamo subito! 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 A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.